Musica Un buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa di mattino 6. Siamo pronti per andare a leggere le principali notizie che arrivano dalla nostra regione, in particolar modo, ma non solo, anche dal contesto nazionale, in questa prima parte come di consueto spazio alle prime pagine. Cominciamo dai giornali di casa nostra, le quattro edizioni del quotidiano Il Centro, questa è l'edizione di Pescara, l'apertura purtroppo è dedicata alla cronaca, giovane muore dopo nove giorni di coma, Città Sant'Angelo era caduto dal balcone a Capodanno, sì, della famiglia alla donazione degli organi. In alto, nei box che riguardano soprattutto Rigopiano, e che poi ritroveremo anche nelle altre edizioni del quotidiano, Rigopiano, inchiesta sui morti al resort, il sindaco di Farindro, che ieri è stato ascoltato dai magistrati, sulle emergenze neve decideva D'Alfonso. Poi ovviamente vi mostreremo anche il servizio che fa il riassunto della giornata di ieri, interrogatori che si chiudono oggi, in una tre giorni, che stiamo seguendo davvero molto da vicino. La protesta dei disabili abruzzesi, siamo stati traditi dal governo, dicono. E poi questioni di carattere nazionale, i migranti andranno in otto paesi, no di Salvini, ma poi vedremo sulle testate nazionali anche gli sviluppi e gli equilibri all'interno della maggioranza di governo. Scendiamo all'interno della pagina, la fotonotizia è dedicata alla presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle verso le regionali, ovviamente Sara Marcozzi dice che con questa squadra cambieremo l'Abruzzo, anche di questa notizia, poi vedremo il servizio riassuntivo, peraltro anche questa fotonotizia la ritroveremo sulle quattro edizioni del quotidiano, così come sempre per la politica ritroveremo questa notizia di Spalla, Gerosolimo e Di Matteo sono ad un passo dall'intesa. Il consigliere, leggiamo regionale Andrea Gerosolimo, convoca i suoi e annuncia la mobilitazione, e si sta decidendo chi candidare e con chi allearsi, la sirena di Donato Di Matteo per la ricomposizione dell'Alleanza del 2014 è più vicina, oggi ci sarà la decisione. In basso siamo a Pescara, vertice dal prefetto per salvare il porto, dragaggio d'urgenza, oggi incontro in regione tra regione Capitaneria e la Marineria. Di Spalla vediamo nelle Crona, che sempre a Pescara Comune arriva il primo no alle auto nelle ZTL. Ancora elezioni, ecco i candidati di Montesilvano alle regionali, e poi la questione delle scuole che sono rimaste al freddo, scuole al freddo, proteste e cortei da parte degli studenti che ovviamente reclamano e hanno ragione, e hanno ben donde, classi calde soprattutto in questo periodo dell'anno, che è davvero molto rigido. In basso, a proposito di scuole, è corsa le iscrizioni, la scadenza per le prime, il 31, già 34 mila le richieste che sono pervenute online. Questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara, andiamo su quella di Chieti-Lanciano-Vasto, ovviamente cambia l'apertura, ma come vedrete non cambia poi tantissimo, alcune notizie le ritroviamo in tutte le edizioni. Ladri incastrati dallo scontrino, Chieti, marito e moglie, assaltano il deposito ACA, smascherati dalla busta della pizza, che ha permesso di risalire ai due ladri. scendiamo e andiamo direttamente nelle cronache, a Lanciano le impronte dei banditi su una bottiglia, partono gli esami, leggiamo per cercare le impronte della banda dei romeni, che lo ricorderete, rapinò selvaggiamente i coniugi martelli a Lanciano, gli investigatori pronti a blindare le accuse contro i sei arrestati. San Buono e senza fogna, chiuso il centro migranti. E poi Farafigliorum Petri, il rito che scalda i cuori, in 20.000 saranno presenti alle Farchie. In basso, torniamo a Chieti, la transferita chiede 100.000 euro, tentato omicidio dopo il festino, la 21enne parte civile nel processo che si aprirà. Cambiamo edizione, il centro della provincia di Teramo, l'apertura è dedicata agli appalti e scatta l'inchiesta sulla Team. La procura prende documenti nella sede della municipalizzata dei rifiuti. Nelle cronache, sempre a Teramo, Rissa in campo, assolti otto giocatori, erano finiti a processo con l'accusa di lesioni e Rissa scoppiate in campo al termine della partita di prima categoria, piano della lenta atletico Lempa. Alba Adriatica, pista ciclabile, arrivano altri 13 espropri. E poi a Nereto, vediamo troppo degrado nel bocciodromo, ingresso murato. Sotto la fotonotizia, usa i cani per perseguitare la vicina. Teramano, accusato di stalking, li legava sotto casa della donna per spaventarla. Chiudiamo le quattro edizioni con quella aquilana. Ospedali, via libera 71 assunzioni, sono medici, infermieri e amministrativi, ha avviato il concorso per nove primari, proprio all'Asl dell'Aquila. E all'Aquila rimaniamo, Biondi vuole dare un volto nuovo a Piazza Duomo, nuovi parcheggi a San Bernardino e sulla statale 80. Il restyling di Piazza Duomo, insieme a ricostruzione, mobilità e rilancio del turismo, sono le priorità del primo cittadino dell'Aquila per il nuovo anno. Ad Avezzano, la regione boccia il nuovo liceo musicale. Ci spostiamo in Valle Roveto, a Civitella Roveto, spaccio in tre telefonini, l'elenco dei clienti. Sotto la fotonotizia siamo a Raiano, semina il panico in paese arrestato, 38enne danneggia bar e la porta di un'abitazione trovata anche della droga all'interno dell'abitazione. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sul messaggero, ovviamente l'apertura non può che essere dedicata a Rigopiano. Le accuse e la beffa. Il sindaco di Farindola ha il PM, chiamai da Alfonso, era l'unico a cui chiedere aiuto. Processo a papà Feniello, depose Fiori dove fu trovato il figlio. Il primo condannato, leggiamo solo l'apertura dell'articolo, duro a fondo nei confronti di Luciano D'Alfonso, da parte della difesa del sindaco di Farindola, nel secondo giorno di interrogatori per il disastro dell'hotel Rigo Piano. Per l'ex presidente della regione la procura ha chiesto l'archiviazione, ma Ilario Lacchetta, indagato in relazione alla gestione dell'emergenza, lo tira nuovamente in ballo. Il primo cittadino, alle 19.30 del 17 gennaio, poche ore prima che una valanga travolgesse il resort, inviò ad Alfonso un sms per chiedere l'invio di mezzi sgombraneve. Continuiamo la lettura, ancora cronaca purtroppo. Capodanno ora è tragedia, morto il ragazzo precipitato dopo nove giorni di ricovero è morto. Corrad Casalini, il ragazzo di 22 anni, pescalese, precipitato proprio a Capodanno. Ancora, cronaca coltellata dal dentista, trans vuole 100.000 euro, chiedi la violenza durante un party a base di sesso e cocaina. Altre notizie che ci arrivano questa volta sempre da chiedi, colpi di mazza durante la lite, tre i patteggiamenti. Rapina con mutilazione, trovate tracce biologiche, 40 reperti analizzati e 5 tracce biologiche proprio in relazione all'aggressione ai coniugi martelli a Lanciano. Saliamo in alto per vedere le notizie che troviamo sotto la testata, che sono di vario tipo, ad esempio, questa è di politica, verso il voto, Movimento 5 Stelle, i fedelissimi di Sara Marcozzi, Volti Nuovi e due consiglieri. La presentazione della lista pentastellata. L'Aquila, ricostruzione, Piazza San Marco, splenderà sotto una nuova luce. E per il Pescara, per lo sport ovviamente, Fiorillo Sicuro è l'ora dell'ambizione, il portiere Biancazzurro si dice, Adesso non ci dobbiamo nascondere più il campo, dice che meritiamo questa classifica e ora dobbiamo restarci. Pescara che tornerà in campo, non in questo weekend, ma nel prossimo, quando ricomincerà il campionato di serie, B lo farà allo stadio Adriatico Cornacchia contro la Cremonesia nella prima giornata del girone di ritorno. Di spalla per il lavoro la legge sul caporalato è stata prorogata dalla regione. E in basso, chiudiamo, andando a Pescara, aree di risulta, ecco i vigilantes. Andiamo invece adesso in provincia di Teramo con il quotidiano La Città, carabinieri nella sede della Team, chieste le carte di quattro appalti, manutenzione, contact center, buste paghe, buoni pasto. La fotonotizia ancora in allerta, ovviamente si parla di maltempo, ho previste altre nevicate fino a domani mattina. Vediamo altre notizie che riguardano la Teramo e provincia, che troviamo a ridosso della fotonotizia. Ad esempio, qui siamo a Roseto degli Abruzzi, lungomare insabbiato, le barriere ci saranno. A Giulianova, siringhe e degrado all'annunziata. Piazza Grande, Zingaretti chiede unità al PD davanti ai fuggitivi. E poi, licenziata guardia giurata sindacalista, il giudice la reintegra. Siamo in vibrata, sotto la fotonotizia, il Comune non riesce a fare cassa, Santomero, seconda asta deserta, per Palazzo Tomassini. Saliamo in alto, sotto la testata, parte dedicata, questa come vedete, alla politica, Marcozzi svela la lista, Movimento 5 Stelle, noi siamo la differenza. E invece, sul fronte centrodestra e centrosinistra, caccia all'ultimo candidato, per chiudere le liste. In basso, a Martinsicuro, torniamo in Val Vibrata, prosegue la battaglia anti-trivelle. E poi, per lo sport, psicodramma, calcio-mercato, Rocco Costantino, rinuncia al Pescara, e poi al Teramo, e va alla Triestina, ufficiale, l'acquisto dell'attaccante, Pinetese. Andiamo adesso, sui quotidiani nazionali, qui, ovviamente, troveremo, soprattutto, come notizia centrale, la questione migranti, e gli equilibri, all'interno del governo. E infatti, Corriere della Sera, Conte resiste, Lira di Salvini, i migranti della Sea-Watch, anche in Italia, la Lega, così è a rischio, il reddito di cittadinanza, accordo con otto paesi, un'ora e mezza di vertice, con il Premier, in quindici saranno ospitati, dalla Chiesa Valdese. E poi, la fotonotizia, Aiuti, Fernando Aiuti, quel bacio storico, per vincere la paura dell'AIDS, la morte dell'immunologo, l'ipotesi, e anche quella, del suicidio, è morto ad 83 anni. Fernando Aiuti, il governo, e le opere pubbliche, blocco di tre anni, per le trivelle, e la Tav bocciata. E poi, la questione Carige, Movimento 5 Stelle, vuole pubblicare, la lista dei debitori, proprio della Cassa di Risparmio, di Genova, la Repubblica, anche qui, l'apertura, è dedicata, agli equilibri della maggioranza, dopo la questione migranti, Conte sconfigge Salvini, lo scontro arriva, a Palazzo Chigi, accordo UE, verranno anche in Italia, il Ministro dice, non lo autorizzo, nella notte vertice, con il Premier. e poi, a centro pagina, Lega e 5 Stelle, vogliono Carige, i vertici della banca, è una follia, piano di nazionalizzazione, Tria, è contrario, l'analisi di Massimo Giannini, la carta, truccata. Il Fatto Quotidiano, tre porte in faccia a Salvini, l'accordo con lui e i suoi migranti, i no della destra polacca, e il TAV, una giornata nera, la definisce il quotidiano diretto, da Marco Travaglio, nervoso per il protagonismo del Premier, e per le iniziative del Movimento 5 Stelle, dice Salvini. In alto, per quanto riguarda, non solo Carige, che abbiamo già letto da altre parti, ma la televisione, non c'è solo Luttazzi, la RAI tratta i ritorni di Gabanelli e di Giletti. E poi a centro pagina, Lega, PD, Forza Italia, il partito dell'impunità, salva quattro senatori dai loro processi, in casta continua, insindacabili, perfino per corruzione. Il messaggero, ovviamente la prima pagina nazionale, il governo trema sugli sbarchi, Salvini a Conte, così salta tutto, i 49 della Sea Watch a Malta, 25 sono destinati all'Italia, dopo l'intesa UE, vertice notturno, a Palazzo Chigi, reddito e quota 100, slitta il decreto. e poi in questione Carigie, Movimento 5 Stelle e Lega vogliono Carigie di Stato, ma i commissari meglio il mercato. Tria si smarca dai vice premier. Altre notizie, l'assalto degli ultra nel cuore di Roma, ipotesi, stop a legare anche una donna tra i tifosi violenti, della Lazio, che ieri ha festeggiato i 119 anni di vita, ci sono stati degli scontri a Roma con le forze dell'ordine, Giorgetti, sottosegretario Giorgetti e gli slogan antisemiti, fermiamo le partite, dice. E poi il divorzio del secolo, sorrisi e miliardi, Bezos, patron di Amazon, rischia di perdere il primato di più ricco del mondo. Libero la ribellione di Salvini, Matteo non vuole neanche un migrante, la UE decide di spartire i profughi della nave in otto paesi, in Italia compresa, il leader leghista non ci sta, qua non entra nessuno, 63% dei cittadini è con lui, il Movimento 5 Stelle, e con chi si schiera si chiede libero per l'appunto, Zaia sostiene il vicepremier, questa è la prova del 9 del governo. E poi in basso vediamo anche questa notizia, Versace dei disabili, non importa nulla a nessuno, l'onorevole Azzurra soldi ai fannulloni, invece che a chi ne ha bisogno. Il manifesto, i cavalieri di Malta, questa è l'apertura, 8 paesi, ovviamente con un gioco di parole, che inserisce anche all'interno, proprio dello stesso Malta, 8 paesi UE accettano la redistribuzione, 300 migranti presenti a Malta e la Valletta, autorizza lo sbarco dei 49 naufraghi, salvati dalle ONG, la gioia dei profughi, ostaggi in mare da 20 giorni, Salvini furioso con Conte, non faccia entrare a nessuno, serve un chiarimento in basso, Di Maio carige di Stato, ma tria frena, anche la Lega sostiene, l'ipotesi della nazionalizzazione, la verità, aprire i porti è un regalo ai terroristi, duro confronto, Salvini e Conte, tutti in festa, per i 49 migranti, fatti sbarcare a Malta, e redistribuiti in Europa, sotto silenzio invece, la notizia che è stata scoperta, un'organizzazione che porta in Italia, jihadisti sui barconi, leggi dei 5 stelle, cannabis libera, allarme dagli USA, fa malissimo, e in basso, i veri sbancati, il PD deve vergognarsi, le vittime di Etruria, insorgono contro Renzi e Laboschi, loro azzerarono i risparmi di 132 mila famiglie, con carige nessuno ci rimette un euro. E poi il sole 24 ore, nuova lotta all'evasione, con i dati della fattura digitale, che è la novità, una delle novità di questo 2019, ovviamente sul sole 24 ore, ritrova ampio spazio. Autogrill sfida i fondi per Elior, strategie di crescita, antitrust, maximulta ai colossi delle auto, ma soprattutto anche alle loro finanziarie. E poi Carige, Lega, Movimento 5 Stelle, sarà Banca di Stato, Tria, preferibile una soluzione di mercato. 320 milioni, cosa sono? Secondo il commissario Pietro Modiano, per salvare Carige, basta un aumento di capitale di 320 milioni di euro. Il mattino sbarchi, Conte va avanti, Salvini minaccia la crisi, 49 della Sea Watch, arrivati a Malta, l'intesa nella UE, 15 destinati all'Italia. Il vice premier, non prendiamo nessuno, vertice nella notte, a Palazzo Chigi. Come vedete anche sul mattino, torna la vicenda Rigopiano, Rigopiano, i fiori del figlio morto, quando la giustizia è senza cuore, violati i sigilli dell'hotel, padre Feniello, condannato per aver portato dei fiori, dove ha perso la vita il figlio Stefano Feniello. La stampa, migranti in Italia, Conte e Salvini, mai così distanti, sbarcati a Malta e 49 rifugiati, con la mediazione UE, il premier è un'eccezione, il leghista mai e poi mai. E poi le scelte strategiche verso il no alla Torino-Lione, il rapporto nelle mani del governo, Mattoninelli dice, è soltanto una bozza, è stata consegnata al governo l'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione. Il tempo, Salvini, Conte invece che mezzogiorno, è mezzanotte di fuoco, il ministro dell'interno rientra come una furia da Varsavia dopo il via libera agli immigrati, faccia a faccia notturno con il premier Edimaio, scontro anche su TAV e droghe leggere. E infatti, come vedete, c'è anche questa foto con una frase che sarebbe attribuibile, ovviamente in maniera ironica, al vice premier Matteo Salvini, Salvini, la sua fretta di rientrare. È morto il medico anti-AIDS, aiuti, caduto dalle scale, forse era, forse è un suicidio, era ricoverato al Policlinico Gemelli. Il secolo blocco navale, Giorgia Meloni, dopo l'annuncio dell'accordo sulla Sea-Watch, è ora di fermare veramente l'immigrazione irregolare, i veri sovranisti, chiedono il blocco navale. Altre notizie, non ditelo ai bonisti, terroristi sui barconi. E poi, l'Unione Europea stoppa fin cantieri la solita storia anti-Italia. Poi Salvini vola a Barsavia, un patto per l'Europa, anche se poi abbiamo visto che è tornato in gran fretta. L'avvenire, Europa e i migranti tornano sulla terra, alta tensione a Roma, l'accordo con il protagonista del premier Conte divide il governo. Salvini, contrario e contrariato, fa ballare il vertice di maggioranza fino a tarda sera. Andiamo negli Stati Uniti perché Trump insiste, urgente il muro, mamme e bambini finiscono in prigione. Di lato, economie, restano in ferie, crescita e lavoro, occupati stabili, banca mondiale, tutti rallentano. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi, partiamo da Gazzetta dello Sport, ovviamente la questione Icardi Inter è quella che è in apertura, 100.000 spine, il pugno di Marotta super multa da 100.000 euro per il rientro e ritardo dalle vacanze, Vanda provoca, rinnovo lontano, altre squadre su Mauro e il club lo convoca. Ma non c'è pace come vedete per i bomber argentini perché dall'altra parte Iguain, Milan e Sarri match a tre. il manager del Pipita è a Londra, però la Juve mette il veto al prestito. E poi il nuovo arrivo sul fronte Milan Paquetà a un fratello si sistema a Monza nella squadra presieduta da Silvio Berlusconi. In alto parola di Monci la mia Roma piena di talenti italiani e di talenti italiani Zaniolo non si vende resterà a lungo incontro in redazione in gazzetta con il DS dei giallorossi proprio Monci in basso la Juve Bis Audero Piazza Romagna e Compagni in dieci sfilano in A Formula 1 Piero Ferrari Binotto la scelta di continuità altri box che sono di mercato Napoli 100 milioni dal PSG per Allan così può andare su Barella e poi notizia che riguarda la Samp torna Gabbiadini la Samp riprende il suo gioiello fatto partire qualche stagione fa il Corriere dello Sport rialzo Icardi nuovo contratto lontanissimo due nodi la clausola di ringaggio Vanda attacca tratto con quattro top club il ritardo costa caro quasi 100 mila euro altre notizie in alto Roma a rischio quarto posto fondamentale per il futuro della società senza Champions necessarie cessioni per 100 milioni di spalla vediamo il pezzo di Andrea Santoni ha vinto Napoli razzismo stoppa le gare sit in ora il governo fa dietro front altre notizie che riguardano per esempio a proposito di calcio violento Genoa Milan è stata spostata alle 15 dopo le parole di Salvini partito l'iter per anticipare al pomeriggio la sfida di lunedì 21 sotto esame anche Napoli Lazio del giorno prima altro che tifosi sono dei criminali il sindacato di polizia va all'attacco Higuain testa a Londra il Pipita furioso con Leonardo e il Milan per l'ultimatum vicino alla rottura vuole andare con Sarri al Chelsea la Juventus allegri a peso d'oro la Juve lo paga caro Real United sono sul tecnico bianconero tutto sport fuga da Milano i Cardi Higuain agitano Inter e Milan come vediamo la moglie agente di Maurito multato per il ritardo allontana il rinnovo e chiede 10 milioni a stagione il Pipita ha sempre più voglia di Chelsea e invece buone notizie per la Juventus che piomba su Quamè vertice col Genoa per Romero sul tavolo anche la punta nel mirino del Napoli tutto sport che si occupa di soprattutto Torino e Juventus è vero per Eira ad ora Mazzarri e il Toro lo vuole esclusiva con la gente del centrocampista Furlan accordo con Southampton Gabbiadini e Sampdoria queste le prime pagine dei quotidiani adesso spazio alle previsioni del tempo pubblicità poi torniamo per entrare all'interno dei quotidiani di casa nostra tra poco seconda parte di mattino 6 iniziamo la lettura dei titoli principali dei quotidiani abruzzesi partendo ripartendo dal centro e soprattutto dalle questioni politiche perché ovviamente l'Abruzzo si avvicina alle regionali e allora andiamo in casa del centrodestra Forza Italia e Donadei l'ultimo rebus di Pagano il caso dell'assessore di Prato la tiene sulle spine il coordinatore degli azzurri a Teramo l'era del dopogatti in corsa teste di serie Febbo Sospiri e Iampieri in basso invece Gerosolimo è pronto a tornare con Di Matteo dopo il veto della Lega spunta il nome della Di Nino e Marsiglio risponde a Di Stefano lo comprendo oggi Di Biase presenta la sua lista ma come vediamo uno spazio ampio che viene dato anche al Movimento 5 Stelle Marcozzi siamo 29 contro 600 candidati il Movimento 5 Stelle presenta la squadra agli uscenti pettinari e smargiassi si aggiungono avvocati ingegneri geologi e imprenditori c'è la lista anche dei candidati ma come vediamo gli esclusi si lamentano su Facebook Falchi accusa non voglio dare il voto agli iscritti teramani morra codice incandidabili l'Abruzzo non farà un più in tempo ma la presentazione della lista dei candidati 5 Stelle ma non solo ovviamente gli equilibri anche negli altri schieramenti politici li troviamo anche sul messaggero ad esempio la lista della Marcozzi consigliere Volti Nuovi Lizza Pettinare e Smargiassi candidato anche il 25enne Nuvolari contro di me un console romano Marsiglio e un big che si vergogna del PD Legnini queste sono parole di Sara Marcozzi che tra un po' ascolteremo intanto Zingaretti appoggia Legnini è la soluzione per la regione faccia a faccia con il sindaco D'Alberto da parte di Zingaretti sul problema terremoto e sfollati in basso per il centrodestra Marsiglio fuori Scoccia e Olivieri dai supporter centristi e vediamo anche sul quotidiano della città addirittura una doppia pagina per le elezioni regionali siamo in casa 5 Stelle Marsiglio e un console romano Legnini e il PD e noi la differenza Sara Marcozzi ufficializza così la lista del Movimento 5 Stelle a Teramo ci sono due esclusi dalle regionarie e poi ovviamente all'interno trovate analiticamente chi sono i candidati centrodestra e centrosinistra intanto sono impegnati a chiudere le liste tra Marsiglio e Legnini tante sorprese confermi ritorno in pista alcuni trombati eccellenti e cambi di casacca e allora vediamo la presentazione del liste del Movimento 5 Stelle nel servizio non quantità ma qualità e la risposta a 5 Stelle alle due grandi coalizioni di centrodestra e centrosinistra come da consuetudine il Movimento 5 Stelle ha una sola lista con 29 candidati capitanati da Sara Marcozzi che per la seconda volta si candida a governare l'Abruzzo sono tutti professionisti insomma abbiamo ingegneri architetti avvocati insegnanti abbiamo veramente un po' rappresentiamo un po' l'intera società civile abruzzese imprenditori per cui crediamo di portare le nostre esperienze al servizio degli abruzzesi adesso abbiamo l'opportunità di restituire dignità alla nostra regione con un programma che presenteremo a brevissimo e che sarà basato soprattutto sul lavoro sulla sanità sulla sanità delle aree interne sulla percorribilità evidentemente delle nostre strade che sono distrutte soprattutto nelle aree interne e un grosso piano di rilancio del turismo polemiche critiche nei confronti degli avversari non sono mancate sono candidati che si presentano senza simbolo che si vedono sui manifesti senza simbolo quando hanno delle grandi tradizioni di uomini di partito e mi aspettavo che insomma di vedere il simbolo del partito democratico ad esempio sul candidato del centrosinistra visto che è uomo del partito democratico e mi aspettavo dal centrodestra tra l'altro che riuscisse a trovare tra un milione 300 mila abruzzesi un candidato che fosse abruzzese ci contrapponiamo ai grandi schieramenti rastrella voti ed eleggi sempre gli stessi andiamo avanti adesso entriamo nell'argomento centrale della giornata di ieri ma che sarà poi proseguirà anche oggi ovvero l'inchiesta su Rigopiano questa è la doppia pagina del quotidiano il centro l'acchetta emergenze neve decideva tutto D'Alfonso il sindaco di Farindola IPM era il sistema per gli aiuti bisognava rivolgersi a lui questo è quello che emerge dall'interrogatorio proprio del sindaco di Farindola IPM il primo cittadino mai portato clienti al resort oggi IPM sentiranno onorati della polizia provinciale e intanto il padre di una delle vittime Feniello Fiori dove morì il figlio Feniello condannato la procura lo multa 4.550 euro per essere entrato nell'area sotto sequestro dove si verificò la tragedia non pagherò nulla e sono pronto dice a finire in carcere tra poco vedremo il servizio riassuntivo ma come vediamo anche sul messaggero troviamo l'apertura che è dedicata proprio alla condanna per Alessio Feniello la prima condanna è per papà Feniello Rigopiano la beffa con due inchieste aperte contro i presunti responsabili arriva la sentenza per la violazione dell'area sotto sequestro il GIP gli ha combinato una volta di 4.500 euro per accesso abusivo alla zona dell'hotel lui sono andato a portare dei fiori a mio figlio e poi l'affondo di lacchetta è vero chiamai D'Alfonso perché era l'unico modo per avere aiuto dal sindaco di Varindola accusi all'ex governatore per legge era lui l'autorità di protezione civile e allora andiamo a vedere il servizio della giornata degli interrogatori di ieri servizio della nostra redazione il primo ad essere ascoltato in mattinata è stato il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta che ha parlato per due ore con i magistrati con il procuratore capo Massimiliano Serpi e con il PM Andrea Papalia parlando del cosiddetto sistema D'Alfonso ha poi voluto chiarire con assoluta forza che quanto riportato nell'informativa secondo cui non sarebbe stato lanciato l'allarme per l'isolamento di Rigopiano non corrisponde al vero perché lui con forza ha ribadito che tutta Farindola e tutte le contrade compreso Rigopiano erano isolate era in effetti anche si leggeva negli atti che Ilario avrebbe sbagliato a rivolgersi il sindaco Lacchetta avrebbe sbagliato a rivolgersi all'ex presidente D'Alfonso per lanciare il suo allarme e questo gli è stato di nuovo chiesto e il sindaco ha risposto che innanzitutto lo ha fatto perché lo impone la legge la legge di protezione civile nazionale e poi lo ha fatto perché quello era il sistema D'Alfonso il sistema D'Alfonso come dimostrato anche dall'emergenza 2015 era che bisognava rivolgersi all'ex presidente D'Alfonso per avere uomini e mezzi per avere aiuto e quindi così ha fatto spiegato anche che sempre la stessa norma prevede che in caso di allarme che non possa essere gestito dal sindaco sul suo territorio deve essere notiziato altresì anche oltre al presidente della regione il prefetto e lui lo ha fatto la mattina del 18 depositando anche in prefettura richiesta di intervento dell'esercito però gli si era chiesto principalmente per quale motivo si fosse rivolto all'ex presidente D'Alfonso e lui lo ha spiegato gli avvocati Tatozzi e Valentini hanno parlato poi di quello che il sindaco Ilario Lacchetta ha fatto nei terribili momenti della tragedia di Rigopiano il sindaco ha chiarito e ci sono fior di testimoni di questo che non ha assolutamente accompagnato né scortato nessuno semplicemente si è fermato a salutare viste le macchine ferme c'era lo spazzaneve si è fermato a salutare un amico e dopodiché ha continuato il suo giro perché stava girando per il paese per prestare soccorso come ha spiegato al procuratore il paese di Farindola che è rimasto completamente abbandonato come del resto in quella circostanza a tutti i paesi dell'area vestina Farindola era in uno stato di gravissima crisi e dentro Farindola ci sono credo oltre 20 contrade tra cui Rigopiano e la popolazione è sparsa in massima parte proprio per le contrade non nel centro storico e quindi lui quel giorno si è fermato ripeto a salutare gli amici che salivano roba brevissima e poi ha continuato il giro che stava facendo il secondo ad essere ascoltato in questa seconda giornata di interrogatori in tribunale a Pescara è stato il geologo Luciano Sbaraglia che ha parlato con i magistrati al termine abbiamo ascoltato il suo avvocato la relazione fu fatta inizialmente soltanto per un aspetto e poi è stata utilizzata anche per altre cose il problema è capire se all'epoca vi era la conoscenza necessaria per arrivare o meno alla previsione dopo tanti tanti anni di un evento come quello che si è verificato e secondo noi è impossibile sinceramente non ho altro da dire grazie grazie oggi ci sarà un altro giorno di interrogatori ma proseguiamo ovviamente con la lettura del giornale siamo sempre sul messaggero area di risulta siamo a Pescara arrivano i vigilantes l'amministrazione presenta oggi il servizio sperimentale costo 12 mila euro ma il porto è insabbiato riunioni in prefettura in regione per un dragaggio urgente siamo ancora a Pescara purtroppo per la cronaca perché Corrad non ce l'ha fatta donati gli organi morto dopo nove giorni il ragazzo di 22 anni precipitato da un balcone durante la serata di Capodanno la decisione dei genitori dopo l'annuncio della cessazione di attività cerebrale già ascoltati i partecipanti alla festa cosa dicono gli investigatori riconducono al clima di euforia la causa dell'incidente pioggia di messaggi sui social ovviamente per ricordare Casalini arriva la morte presunta per Donatella Grosso caso chiuso era scomparsa 23 anni fa prima di andare nella pagina accanto pagina 40 che vedete siamo già all'Aquila torniamo sul centro super vertice anche qui per un dragaggio d'urgenza Capitaneria Regione Marineria a confronto sulla procedura da seguire per accelerare al massimo i tempi di intervento la darsena commerciale intanto resta bloccata grido d'allarme degli operatori il belisario è al freddo e allora 50 studenti in strada in aule con le coperte la dirigente interverrà la provincia intanto c'è il via libera della giunta Antonelli e Michetti si è ai lavori interventi antisismici per 3,6 milioni di euro auto elettriche nella ZTL primo no del comune le nuove regole sulla viabilità la commissione mobilità invita sindaco e giunta ad approvare in consiglio un atto di indirizzo contro la legge che apre i mezzi ibridi le aree pedonali intanto però 16 famiglie sono senza acqua da un mese via Matese protesta del residente la replica dell'ACA pagate gli arretrati e riallacceremo le utenze a pagina 18 ecco il pulmino speciale che aiuterà i malati di SLA acquistato grazie alla generosità dei pescaresi dopo lo spettacolo al Circus con la testimonial Paola Mastrangelo domani ci sarà la cerimonia in piazza Salotto andiamo avanti siamo a Montesilvano ecco i Montesilvanesi che puntano all'emiciclo tra un mese il voto che potrebbe premiare dopo anni di assenza un politico locale in campo anche l'ex assessore Manolo Amusa il direttore di Confesercenti Tauci e intanto proposta di nuovo Saline strage di tartarughe una legge per tassare i pescatori sportivi in basso l'ambulanza al mercato rionale del sabato dal 19 gennaio la misericordia presiderà la salute dei cittadini e farà controlli su pressione e glicemia a Città Sant'Angelo muore a 21 anni dopo 9 giorni di coma Corrad Casalini era caduto da un balcone in località Fonte Umano via libera dei genitori alla donazione degli organi altre notizie che leggiamo rapidamente a spoltore simulato l'incente conferite esercitazione in corso all'Arca a Città Sant'Angelo via Colella opposizione contro la variante siamo a Francavilla documenti falsi per aprirlo il conto alle poste viene denunciato un teramano con identità romana e il sospettito l'impiegato allo sportello che ha avvisato i carabinieri l'uomo aveva chiesto anche una carta prepagata erosione l'ex sindaco fu padovano a realizzare i pennelli sempre a Francavilla giunta entra l'assessore Ester di Nicola siamo a San Giovanni Teatino il sindaco Marinucci sostituisce la dimissionaria Elia e ridistribuisce le deleghe per la politica sempre a San Giovanni Teatino la lega candida Martelli il consigliere comunale ed ex assessore Scuole al freddo come vedete anche a Penne in piazza la protesta degli studenti in corteo gli alunni del liceo dell'istituto tecnico in classe temperatura di 10 gradi diritto allo studio che viene così negato a Caramanico Terme una nuova variante al PRG riduce il consumo del suolo a Chieti furti nelle aziende il processo traditi dallo scontrino della pizza moglie e marito assaltano il deposito dell'Ager rubano 30 mila euro di materiale ma una busta abbandonata li fa scoprire in basso altra cronaca aggressione con la mazza in tre nei guai il pestaggio nei pressi di un pub siamo a Chieti bene da uno a due anni per i giovani che picchiarono un ragazzo a Lanciano caccia le impronte su una bottiglia l'assalto in villa ai coniugi martelli esame del DNA gli investigatori cercano le tracce dei rapinatori per blindare le accuse tre mesi per finire i rilievi altre notizie sempre a Chieti cane chiuso sul balcone sottratto ai padroni in basso la transferita vuole 100 mila euro di danni prima udienza del processo per tentato omicidio il dentista si difende mi sono solo difeso per l'appunto la tradizione il fuoco per Sant'Antonio il rito che riscalda i cuori farà figlio Rompetri si prepara alle farche viaggio nel paese che costruisce i fasci di canne da bruciare a Ortona parte il rilancio dell'ex cinema Zambra affidato all'architetto Caraceni l'incarico della progettazione 150 mila euro per trasformare il locale in una sala da 364 posti e Ortona sempre celebra Margarita d'Austria incontro alla biblioteca diocesana sull'anniversario della morte della madama a Teramo inchiesta sui rifiuti alla Team si indaga su appalti affidamenti a procura apre un fascicolo dopo alcuni esposti carabinieri nella sede della municipalizzata per acquisire ovviamente dei documenti è tutto quello che occorre per andare in fondo alla vicenda perseguita con i cani sempre a Teramo la vicina di casa processo per stalking a un 55enne teramano gli legava gli animali sotto l'abitazione della donna per spaventarla e in basso risse in campo assolti otto giocatori processo per la partita di prima categoria fra piano della lente atletico Lempa rimaniamo a Teramo licenziata per discriminazione il giudice ordina il reintegro il caso di una dipendente del Livri che ha accusato l'istituto di averla cacciata perché sindacalista la sentenza dice un provvedimento di natura ritorsiva la soddisfazione di Wiltux Abruz a centropagina Zingaretti a Teramo così camberò il PD il governatore del Lazio lancia in città la sua candidatura segretario incontro anche con il sindaco Gianguido Dalberto a Nereto invece il sindaco fa murare gli ingressi del bocciodromo decisione assunta per fermare lo stato di degrado a Colonnella si presenta l'Iper con il biglietto vincente 25 mila euro della lotteria Italia è andato ovviamente a portare a far vedere il biglietto vincente complimenti tanti auguri a chi ha il fortunato che ha vinto Pineto Verrocchio forse si ricandida ma è presto devo pensarci il primo cittadino uscente prende tempo dopo le candidature di Passamonti e Assonia a Silvi interventi per 72 mila euro polemiche sulla manutenzione del territorio il sindaco Scordella annuncia tutta una serie di lavori che poi troverete analiticamente proprio nel giornale interventi antiallagamenti tra via Piemonte e via Po siamo a Roseto incaricata una ditta per la manutenzione della rete sulle acque bianche problemi anche in altri quartieri ma per ora non ci sono fondi sempre a Roseto lavori per sistemare la piscina e degrado anche nella zona sud della città cumuli di rifiuti fuori da Cassonetti dell'isola ecologica siamo all'Aquila più parcheggi e piazza Duomo rinnovata progetti per il 2019 il sindaco Biondi in cima alla lista la soluzione per la mobilità un impulso alla ricostruzione il decennale come memoria e spot il cronoprogramma e le priorità del sindaco Biondi per questo nuovo anno per quanto riguarda gli ospedali invece il manager Tordera annuncia 71 assunzioni riguardano medici infermieri amministrativi avviato anche l'iter del concorso per nove primari ad Avezzano l'indagine finti lavori ai migranti in tre neguai il PM chiede rinviare giudizio per gli imprenditori gli stranieri pagavano fino a 7 mila euro per sbarcare in Italia a Luco dei Marsi barista ucciso da un aneurisma prima i risultati dell'autopsia domani il funerale del 63enne e poi indagini in Valle Roveto spaccio in tre telefoniti in tre telefonini un elenco dei clienti e poi intimidazione dopo il vertice PD due giovani di Luco denunciano l'episodio avvenuto all'Aquila a Pezzopane c'è un clima assurdo Arraiano mattinata di follia danneggia barra e case arrestato un 38enne l'uomo agresce anche i carabinieri ma la bravata gli costa caro nella sua casa spuntano 250 grammi di marihuana segnalazioni anche a Scanno e Villalago truffa del finto pacco e allarme e poi a Sulmona liceo chiuso monta la protesta la storica sede del classico inagibile dal 2009 lavori mai partiti qui siamo allo sport prima di arrivarci ovviamente ci arriveremo tra un po' torniamo sul messaggero rimaniamo all'Aquila perché il trasporto bus viaggia in rete nuovi servizi per orari e reclami Lama vuole istituire un numero su Whatsapp e canale Telegram per fornire le informazioni grazie al GPS sarà possibile localizzare i mezzi in modo da riturre al massimo i tempi di attesa il bollette di map e progetto case biondi risparmi per un milione per il sociale il passo possibile un centro anziani a Valle Pretara in basso l'aggressione tentato stupro uno straniero a processo il fatto si era verificato vicino alla piscina la vittima si era difesa con la kickboxing sempre all'Aquila piazza San Marco una luce sulla rinascita a febbraio sarà inaugurato il palazzo d'armi l'edificio è stato adeguato sistemicamente con l'acciaio lavori particolarmente complessi altre notizie che troviamo nella pagina accanto liceo musicale addio e polemiche i consiglieri provinciali marsicani siamo ad Avezzano lanciano una dura accusa alla regione Abruzzo e all'assessore Lorenzo Berardinetti bocciati due progetti di grande giovamento per la marsica e la responsabilità dicono gli accusatori le responsabilità sono evidenti evidenti altre notizie vediamo sul Monari ecco la banda del pacco incubo per quattro famiglie ancora sul Monari animazione nominato il primario ad Avezzano tribunale accolta tra l'ottimismo la presidente e poi nella marsica immigrazione raffica di richieste di processo a Chieti festino a base di sesso e droga la trans chiede centomila euro la vittima era presente in aula disposto lo stralcio per un imputato il dentista accusato di tentato omicidio chiede l'abbreviato e punta sulla perizia filantropo un artista ripa finanzia un affresco lavori affidati a un giovane la sentenza pestato con la mazza da baseball arrivano tre condanne l'aggressione allo scalo di Chieti patteggiano i giovani irresponsabili il caso è chiuso a Lanciano martelli dal DNA conferma le accuse varie tracce biologiche rilevate dai 40 reperti acquisiti nell'abitazione dei coniugi di Lanciano vittime del colpo altre notizie Lanciano sempre blizzi e carabinieri ventenni incensurati arrestati per droga porto di Pescara ancora insabbiato pescherecci dirottati su Ortona e poi a Teramo c'è l'accordo sugli espropri dal comune 750 mila euro piazza Sant'Anna ha chiuso il contenzioso che si trascinava da ben 50 anni l'area viene acquisita come parcheggio ma ora è diventata una zona pedonata nazionale l'inchiesta bis sull'acqua Forlini ancora nei guai e poi ritroviamo anche licenziata perché sindacalista il giudice la reintegra sul lavoro verso il voto Tony Lattanzi candidato Movimento 5 Stelle gli esclusi accusano Tony Lattanzi candidato con azione politica andiamo cambiamo pagina ricordate la vittima di Giovanni Amodio non ho picchiato mia mamma resta nel carcere della mano di Castronio il pescatore 3050 di Martinsicuro accusato di stalking stato sentito dal GIP illegale il marittimo è sconvolto dopo il naufragio rimase 40 ore in mare a ottobre e si salvò altre notizie Roseto ennesimo furto d'auto la denuncia è social a Giulianova ex Ariston in tribunale tutti contro il comune c'è anche la corsa dei giuliesi in regione per la ciclabile ad Albadriatica variante ok via agli espropri scuolabus genitori siamo a Tortoreto sconfitti al Tar come vedete anche qui stiamo per arrivare allo sport però prima andiamo sul quotidiano la città per vedere alcune notizie che ci arrivano da Teramo e provincia liberiamo il paese da slogan e faciloni Nicola Zingaretti a Teramo con Piazza Grande per lanciare la sua candidatura alla segreteria del PD torna l'allerta meteo per neve fino a domani possibile accumuli sopra i 200 metri criticità ordinaria gialla il comune di Teramo riapre i COC licenziata perché era una sindacalista UIL il giudice del lavoro di Teramo reintegra una guardia giurata Ivri condannata per condotta discriminatoria e poi i carabinieri nella sede della Teramo ambiente chiesta documentazione su quattro appalti manutenzione dei mezzi contact center buste paga e buoni pasto andiamo avanti siamo a Martinsicuro dove continua la battaglia contro le trevelle in mare la SOA deposita nuove osservazioni al ministero sul nuovo Pozzo Eni davanti alle coste Truentine a Santomero Palazzo Tomassini asta di nuovo deserta niente da fare per la vendita degli immobili da parte del comune sarena il dialogo siamo a Giulianova tra comitato e commissario sul polo scolastico al tavolo chiesto dai genitori non siederanno rappresentanti della politica e il caso siringa e degrado nel parco dell'annunziata andiamo a Roseto la rinascita del borgo anzi siamo a Montepagano passa dalla scuola orario prolungato per l'istituto dell'infanzia e attività formative in paese e poi le siepi a Roseto le siepi antisabbia sulla ciclabile ci saranno tacchette risponde alle critiche quella sera il vento era così forte che le barriere sarebbero state inutili andiamo adesso allo sport ripartiamo dal centro con le parole dei senatori del Pescara che sono pronti a giocarsi la serie A Fiorillo e Balzano ripartire come abbiamo chiuso l'andata del fino al secondo posto il portiere mercato non c'è bisogno di stravolgere gli equilibri il terzino per raggiungere l'obiettivo osservano umiltà e costanza in basso il mercato prima l'addio di cocco poi si chiuderà per Rossi Sebastiani a Milano per accelerare sul mercato deve trovare una sistemazione anche per Fornasier dall'altra parte il mercato del Teramo l'ultimo dietro front Costantino Vattrieste beffato Campidelli che martedì aveva ringraziato il Pescara per l'aiuto nella chiusura dell'affare ma la punta si accorda con gli alabardati fino al 2020 oggi ci sarà la presentazione del nuovo socio Nicola Di Matteo notizie queste che ritroviamo come vedete anche sul messaggero Fiorillo l'ora dell'ambizione il numero uno del Pescara punta al massimo sì adesso non ci nascondiamo più il campo dice che meritiamo questa classifica e dobbiamo restarci a lungo Capone intanto un fortunato di lungo corso si allena al poggio diventiamo più forti foto con Macin Palazzi e per rotta in basso troviamo il basket Sharks via al ritorno per provare a stupire la classifica corta unita alla promozione diretta che aggiunge un posto propone un futuro interessante per la formazione di coach d'Arcangeli invece a Teramo arriva Di Matteo oggi si presenta il socio di minoranza che affiancherà Campitelli nella gestione conclusa la telenovela dell'attaccante Costantino che andrà alla Triestina e invece è da qualche giorno alla Spezia D'Eramo Avezzano saluta D'Eramo e Spezia in eccellenza Scossone in casa Torrese si dimette l'allenatore Luigi Narcisi e la questione che riguarda Costantino la troviamo anche sulla città Costantino storia di un affare impossibile l'attaccante ferma con la Triestina nel giorno in cui doveva chiudere col Pescara ricostruite le tappe della vicenda dal corteggiamento all'incontro di venerdì il primo stop i dubbi e poi infine l'addio definitivo alle speranze del Teramo di trovare un accordo torniamo sul centro perché andiamo in serie D perché Montani non è sazio andiamo in casa Vastese la Vastese ha ampi margini di crescita il tecnico vietato di saltarsi pensiamo a lavorare San Mauro Pascoli per la terza vittoria consecutiva altre notizie che riguardano le squadre di serie D Colonna a Recanati sarà un ex senza rancori Marco Colonna è arrivato qualche settimana fa proprio a Notaresco che incontrerà sabato la sua ex squadra sabato arriva il Campobasso in casa del Francavilla Francavilla difesa bunker porta inviolata pensate da 420 minuti Amaolo invece avvisa il Pineto a Matelica sarà battaglia non ci sarà Ciarcelluti squalificato Lavezano serve una punta per la salvezza squadra Marsicana che si prepara alla sfida col Monte Giorgio in basso il Giulianova che riparte senza Fazzini e Tozzi Borsoi domenica Castelfidardo inizia il Tour de Force con 7 gare in 20 giorni per i giallorossi peraltro è stata ufficializzata la data di recupero della partita che non si è giocata domenica contro l'Agnonese sarà il prossimo 23 di gennaio in eccellenza i recuperi Penne Pontevomano tre passi avanti Vestini a Balanga sul Martinsicuro aspettano la vittoria a tavolino del giudice sportivo per entrare nei playoff altre partite Trissal Nereto il Chieti vuole in finale in Coppa Italia i teatini staccano il pass 6 febbraio con la Mitennina forse si giocherà a Silvi promozione Girone B il derby di Atessa finisce senza reti Piazzana e Valdisangono non si fanno male colpo 2 a 0 del Bucchianico in casa del Sant'Anna bene questa era l'ultima notizia per questa edizione di Mattino 6 io vi ricordo l'appuntamento con la prima edizione del nostro telegiornale alle 14 poi tutte le edizioni anche alle 19 e alle 23 Mattino 6 invece torna domani mattina puntuale alle ore 8 è tutto buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti